Ciao Kelvin, innanzitutto benvenuto, ci racconti l'emozione dell'esordio con la maglia del Genoa in uno stadio come San Siro? Sì, è stata una grande emozione, sono felice della nostra prestazione e soprattutto del nostro atteggiamento in questa partita e andiamo avanti così. Che gara hai visto dal campo? Che gara è stata? Sei visto un Genoa che ha lottato e ha messo in difficoltà il Milan a casa sua? Sì, ovviamente abbiamo dato il nostro meglio e abbiamo lottato fino alla fine e malgrado abbiamo perso, però andiamo avanti a testa alta e affrontiamo la prossima partita. Ti abbiamo visto giocare oggi per la prima volta, ci racconti che giocatore sei? Penso che un po' di doti nella partita si sono viste, sono un giocatore veloce, con molta tenacia e abbastanza tecnico, spero di aiutare la squadra e vediamo come va. Grazie Kelvin, grazie a te. Grazie a te.